amici di radio roma sport ciao da alberto fiano immancabile appuntamento con il punto sulla roma dopo juventus roma del 17 dicembre ovviamente corrente anno che dire la rabbia l'amarezza la delusione lo scoramento la nausea per un film troppe volte già visto e parlo soprattutto per scelerate decisioni arbitrali e ancora veramente al culmine però ci sono anche delle domande da porsi perché la roma sbaglia i primi 15 minuti un'altra volta un approccio molle in casa della cerrima rivale in casa della juventus quando invece bisognava partire veramente con una ferocia e un ritmo vertiginosi e disumani tra virgolette io lo dissi anche nella vigilia se la roma regge i primi 15 20 minuti di gioco allora poi veramente può mettere la partita sui giusti binari così purtroppo non è stato perché il gol di iguain appunto che avviene al minuto 14 del primo tempo la roma va troppo molle con tre giocatori che poi sono tre dei pesi massimi dei rossi che perde il primo contrasto poi fazio che pare come se si scansasse infine manolassi in tegel ma anche lì non troppo convinto e poi il pipita piazza la zampata di sinistro che sbatte sul palo interno e termina in gol quindi lì ti fa vedere anche la differenza di di foga di carica agonistica di ferocia di cattiveria perché se ci vai più convinto tra manolas de rossi e fazio almeno uno di questi tre visto anche la stazza di cui dispongono sradicano la palla a gonzalo iguain quindi qua purtroppo la roma a mio avviso deve recitare un mea culpa poi un'altra domanda perché gerson io stimo e ammiro ed ammiro molto spalletti però dico ma in una partita come questa perché mettere gerson diciottenne che a cui possono anche tremare le gambe che può essere ancora infatti così ha dimostrato acerbo per questo tipo di incontri e non puntare su un assetto banco laudato quello che è sempre stato con veramente con e sciaraui e perotti già sulle fasce come esterni offensivi in angolano trequartista centrale gieco perché questo perché qui non mi ha convinto ha fatto infatti il tecnico di certaldo io penso che di anche un segnale alla squadra di come di paura tra virgolette perché tu vai a togliere un elemento offensivo per mettere uno per caratteristiche un po più difensivo perché togli un attaccante esterno mette un centrocampista e questo non mi ha convinto per me si doveva partire con l'assetto delle ultime due partite ossia che nel derby con la lazio e con l'incontro col milan doveva giocare e sciaraui anche perché si era ben comportato durante la settimana a trigoria in partitella aveva fatto anche tre gol era pimpante quindi magari sarebbe stata una soluzione più congeniale poi arriviamo alla nota più dolente in 35 anni non è cambiato nulla dal gol di Ramon Turone annullato quando era in gioco di 18 centimetri e ripetiamo 18 centimetri alla tripletta di Rocchi del 5 ottobre del 2014 Rocchi arbitro è no l'ex della lazio che poi tra l'altro non ha mai giocato con la juventus non ci ha mai giocato appunto con i bianconeri passando per orsato quando hanno fatto la disegnazione tutto un sospiro di sollievo orsato il migliore che ci potesse essere non per fare il bastian contrario ma all'unico scettico ero io perché dico questi purtroppo hanno un potere di un lato oscuro proprio riprendendo una riprendendo una frase di guerra e stellari ma è così che non è l'arbitro ma proprio se hanno quella direttiva quel diktat così deve essere perché la juve deve stare tranquilla la juve doveva andare a sette punti la juve come dire deve affrontare ora al meglio con la massima serenità la finale la finale appunto di supercoppa col milan e pensare poi alla champions quindi già con due giornate d'anticipo è campione d'inverno e quindi veramente è un film troppe volte già visto ma che è un vilipendio contro ogni forma di moralità e di giustizia sportiva e non l'orsato show e andiamo a menzionare questi questo orsato show una munizione a primo tempo a derossi che prende la palla integra e non pianica al primo fallo se così si può chiamare poi un fallo a due su gerson dove alexandro le da una proprio una sportellata modello rugby gerson al limite dell'aria cade a terra un'ostruzione mastodontica non segnalata e non sanzionata e poi per aggiungere vergogna a questa già decisione vergognosa la munizione a gioco per proteste contro questa assurda e come dire decisione appunto di lasciar correre un fallo evidentissimo poi fallo intenzionale di pianici a centro campo e il regolamento dice che per farlo di mano intenzionale bisogna dare il giallo e il giallo non viene dato fine primo tempo ci poteva stare un doppio rigore per la roma col calcio d'angolo di perotti giaco tenta di saltare sul primo palo chielini lo atterra lo spinge da dietro quello è già rigore la pala va a mano lastra il titolo di quest'ultimo sbatte sull'avambraccio di l'icksteiner e anche qui nessun rigore veramente una cosa uno scempio poi secondo tempo e ancora anche qui si ripete orsato perché perotti dal limite dell'aria verso il quinto quarto d'ora venti minuti dalla fine stava andandosene via interviene quadrato a braccia largo modello proprio come se stesse nuotando stile libero così e anche qui orsato lascia correre cioè quante ne vogliamo dire quindi veramente qui può esserci una svista due anche tre tanto poi nel dubbio si sa sempre si visca contro la roma e sempre a favore della juventus per carità però quando sono così recidive e così anche la maggior parte dei cladanti non puoi anche andando contro la tua indole anche volendo sforzarti di stare in buona fede non puoi non andare veramente a pensare con malizia e a pensare con malafede perché questo è questo purtroppo è ma si sa quando vai soprattutto a prescindere quando giochi con la juventus sempre ma soprattutto quando stai lì in quel catino che si chiama juventus stadium si sa che vai a giocare sempre 14 contro 11 come minimo e anche questa volta così è stato dissi che bisognava fare la partita per non perfetta ma oltre alla perfezione per riuscire ad uscire per riuscire ad uscire appunto imbattuti dallo juventus stadium e invece purtroppo la perfezione non c'è stata perché ripeto sul gol ci sono state state tre grosse imperfezioni che sono state carissime alla roma poi segnaliamo anche due grandi interventi di scezni veramente su sturaro soprattutto si è superato il portiere polacco e poi ecco ci viene anche da da dire una cosa su sturaro che comunque è stato un kamikaze ha picchiato come un fabbro per tutta la partita e non ha preso neanche un giallo se ben ricordiamo quando a mio avviso se avesse indossato qualsiasi altra maglia che non fosse stata quella della juventus già stava anzitempo sotto la doccia ma si sa con quella maglia si ha la immunità e quindi è permesso di tutto o quasi in campo ai danni degli avversari e poi ripetiamo l'ultima mezz'ora la roma ha letteralmente schiacciato la juventus che tremava c'è stato anche un sospiro di sollievo di buffondo con un colpo di testa sfiorato di manonastra che ha l'ambito del palo veramente come per dire un pericolo scampato allora a noi ci viene spontanea domanda ma perché non partire subito con quella verve con quell'ardore agonistico con quella voglia e ambizione perché regalare 45 50 minuti minuti alla juventus in tal senso perché la roma avrebbe ampiamente per ciò che ha fatto dal cinquantacinquesimo al novantesimo strameritato il pareggio però vuoi un po per qualche decisione arbitrale anche lì dove meglio lasciar perdere vuoi soprattutto per imprecisione oppure mancanza di quel tocco finale di cattiveria di cinismo sotto porta e di fortuna anche perché anche la terra abbendata spesso come nella sua storia avvolta le spalle alla roma ha fatto sì che appunto la porta dei buffoni rimanesse inviolata una sconfitta che fa male una sconfitta che era meglio ovviamente se non si fosse consumata una sconfitta ingiusta però anche una sconfitta che se si parte appunto dall'ultima mezz'ora si riprende di far capire quanto è stato importante questo lasso di tempo ha fatto capire che la roma c'è che se la può giocare con la juventus che nulla è perduto sette punti sono tanti ma c'è sempre ancora tutto un ritorno c'è lo scontro diretto in casa e quindi vietato mollare ripartiamo da qui nulla è impossibile forza ragazzi siamo con voi crediamoci oggi più che mai e ribelliamoci alle ingiustizie contro tutte e tutti ci rialzeremo più forti prima e dagli Roma dagli sempre con questo è tutto io concludo qui il collegamento la rabbia ancora tanta spero di averla contenuta in qui in diretta e mando i miei saluti di rito al mio amico guglielmo timpano conduttore di gioco pericoloso la trasmissione tv di teleroma 56 in onda ogni giovedì in diretta dalle 21 alle 23 saluto roberto de angelis che con il suo staff con stefano tini mi da sempre l'onore e il piacere di partecipare come opinionista alla loro trasmissione questa è la roma il venerdì pomeriggio saluto la mia amica dottoressa indizioni logopedia nonché anche bravissima artista come cantante ed attrice teatrale analisa peruzzi per chi fosse interessato alle sue materie può contattarla con la sua pagina facebook saluto gli amici di roma del credito io faccio l'opinionista ogni lunedì dalle 12 alle 14 su spqr ossia andrea materia fulvio micozzi e marco santarelli saluto anche la mia amica giornalista natalia di porto ex gazzetta dello sport saluto la mia amica giornalista di radio sonica noemi perini il mio amico braccio destro di gutimpano flavio tastotti saluto nick caprera degli inascoltabili vincitori del microfono d'oro nella stagione 2016 saluto anche la mia amica bravissima attrice ed ottima persona elda alvigini alias stefania dei cesaroni spero di non aver dimenticato nessuno vi auguro un buon proseguimento di serata una buona notte un buon weekend sempre forza roma e ricordo anche per chi viene in agenzia del magalberto in mia candia 141 b in prati zona appunto prati a roma b come bari e a nome delle trasmissioni questa è la roma e spqr gioco pericoloso e gli inascoltabili di nicola caprera avrà pronunciando la parola magica dagli romadagli avrà in regalo una giocata gratuita di 10 euro e davvero tutto vi ringrazio buonanotte e sempre più che mai dagli romadagli e crediamoci ciao e buonanotte a presto da alberto fiano su radio roma sport